Pet Channel.eu, il canale social foto video degli animali domestici, presenta, il pesce ciclidenano di Ramirez. È uno dei più docili e tranquilli tra i pesci per acquario. Non è compatibile con specie vivaci o addirittura aggressive. Nel suo habitat naturale, i corsi d'acqua ricchi di vegetazione del Venezuela e della Colombia, forma coppie stabili, in cui entrambi i genitori si prendono cura dei propri piccoli. Anche in acquario è consigliabile mantenere questo tipo di convivenza, allevando un esemplare maschio e uno femmina. Se ti è piaciuto, metti un mi piace a Pet Channel e condividi il post. Grazie.